A me mi ha fatto subito piacere che il mister mi ha schierato, è stata una partita brutta dal punto di vista tecnico-tattico, però l'abbiamo rialzata la partita e l'abbiamo pareggiata. Sì, è stata una soddisfazione, però la dobbiamo vincere a tutti i costi. Fischi secondo te giusti? Giustissimi, secondo me giustissimi. Perché? Perché tu in casa devi vincere. Speriamo domenica di vincere col Biceglie e rilanciarsi subito nella zona playoff. No, la mentalità è sempre quella di fare più punti possibili sia a Canazzara che adesso qui a Caserta. Dobbiamo subito raggiungere la salvezza e giocarcela fino alla fine, se viene qualcosa è in più meglio. È una squadra che serve anche i loro punti, si devono salvare, quindi sarà una partita cattiva, però noi dobbiamo fare la nostra partita e portare subito la partita da favore nostro. L'umore dello spogliatore secondo me è giusto perché non è che stiamo né, scusami della parola, né la merda, è né che siamo a tre punti dai playoff e a quattro dai playout, quindi se fai una vittoria già la cosa cambia. Ma noi non pensiamo a questo, cioè noi dobbiamo fare i primi punti, il nostro cammino e salvarci il meno possibile. Guardate avanti. Sempre avanti. Vabbè, questo è il calcio, cioè se non fai punti ti ritrovi nella zona playoff, se riesci a fare più punti possibili ti vedi un altro campionato. Sì, siamo molto fietuciosi, perché secondo me l'unica cosa che ci può danneggiare un po' è il campo, perché il mister ci dice sempre di giocare palla e il campo non ci lo permette, però non è che possiamo trovare alibi, questo ce l'abbiamo e quindi dobbiamo pedalare e basta. Questo non lo so, io spero di dare una mano a fare con la squadra e portare più punti possibili a casa, poi se vengono i gol bene, se no...